Per dieci anni i medici lo hanno rattoppato. Protesi di metallo in ogni arto, chiodi per stabilizzare la colonna, cinque viti e una placca di titanio nel cranio. Non si può fare una risonanza e neanche le radiografie serviranno. Ogni pezzo di metallo oscurerà qualcosa. E Aus non è malato. Tu come lo sai? La Caddy lo ha scaricato. Ora si aspetta che lo assecondiamo mentre lui ignora il lavoro e si lecca le ferite. La Caddy lo ha mollato. Non lo fare. Non lasciarti coinvolgere. Ma lui la ama. Non puoi dispiacerti per cinque minuti. Potrei, ma mi aspetto che si comporti da adulto e che venga al lavoro. Invece di consolarsi con l'alcol, il vicodine e le prostitute. Dobbiamo gestire questo caso senza di lui. Ah, è questo il motivo. Non perché cogli l'occasione per assumere il controllo. Ho detto dobbiamo gestire. Aspettate, capisco l'alcol e le prostitute, ma perché il vicodine? Ma allora è vero che non hai amici qui. Aus ha una dipendenza da vicodine. È rimasto pulito per due anni. E lo prendeva al lavoro? Sì, ma passiamo al paziente. Diaframma lacerato, sterno fratturato, naso rotto e perdita parziale dell'udito. Il tutto causato da un toro che lo ha calpestato. Invece disordini neurologici, febbre, nausea e debolezza muscolare non si spiegano. E se non avesse perso l'udito a causa del toro? Magari se ne è accorto solo ora. I danni all'orecchio interno incidono sull'equilibrio e causano disorientamento. Che farebbe pensare a un disordine neurologico. E come lo confermiamo? La tacca mostrerà solo la placca e le viti che tengono insieme il cranio. Facciamo un'elettronistagmografia. Se ha danni all'orecchio, avrà problemi di equilibrio. Ottima idea. Procedete. Procedete? Davvero? E se uno di noi non fosse d'accordo? Comunque sono d'accordo con Foreman. Procedete. Tu sapete! Comunque sono d'accordo con Foreman.